Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Oggi vogliamo cominciare parlando di turismo, anche perché oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Probabilmente questo è un settore che mai come in questo momento è stato così importante per le nostre economie, ma anche per i nostri territori. Vogliamo fare un bilancio del turismo che riguarda la nostra città, insieme a Rodolfo Ademollo, che è direttore della Fondazione Arezzo in Tour. Benvenuto, ciao, buongiorno. Abbiamo sentito in questi giorni che la fotografia che possiamo fare del turismo in Toscana di questa estate è una fotografia un po' a tratti chiaroscuri. Quella di Arezzo qual è? Ma è una bella fotografia, poi c'è chi piace il vintage, c'è chi piace i colori, il 4K. Diciamo che noi quest'anno chiudiamo un quadrimestre, il secondo, quello tipicamente estivo, quindi quello che va dal mese di maggio fino a quello d'agosto, sostanzialmente in crescita sull'anno precedente e di qualche punto. abbiamo fatto dei mesi eccezionali, da aprile che ha aiutato il primo quadrimestre a raggiungere i livelli eccezionali. Siamo sostanzialmente in linea con il mercato toscano che ha visto i primi due mesi del secondo quadrimestre, maggio-giugno andare molto bene, tipico delle città d'arte. Il mese di luglio avere meno gruppi e meno persone in giro per la città, ma un'ottima ricettività confermatasi a livelli del 2022, grazie soprattutto anche all'intervento del centro affari, al politico di Maise. C'è stato il raduno, per esempio, dei testimoni di Geova che ha inciso molto positivamente sul mercato ricettivo. Poi c'è stato in agosto che è andato, rispetto all'anno scorso, sotto meno 14, meno 15, dal punto di vista dell'indotto dal campione stimato del nostro campione. Ma era più che normale, perché negli anni pandemici, che ricordo che l'anno scorso era pur sempre un anno pandemico, se io ho una comunità di viaggiatori che possono viaggiare 5 mesi, tu trovi quel numero diviso per 5 mesi. La stessa comunità viaggia per 12 mesi, posiziona il viaggio in modo più consono delle proprie politiche, familiari e attività. Si sta tornando a quelle che erano i normali mesi antepandemia, con un'estate, noi sempre molto positiva, con un agosto sempre comunque un'ottima mensilità dal punto di vista delle presenze. Ma poi il turismo non è solo presenze ricettive, il turismo poi è anche crescita culturale, è un indice di indotto per tante altre fonti. Quindi ora i dati stanno arrivando, ma insomma per quanto ci riguarda Arezzo si è difesa molto bene e ha, a mio avviso, lanciato i semi poi per fare un'autunna eccezionale. Riguardo le presenze, gli stranieri, gli italiani? Ma riguardo le presenze, Gloria è molto fluida la situazione. Il mercato si sta chiaramente cambiando, da aver visto anche le questioni internazionali, per quanto riguarda gli stranieri bisogna sempre un po' leggere il giornale e vedere quale problema c'è in quale parte del mondo, eccetera. È chiaro che noi maggio, giugno, luglio, abbiamo visto una grande crescita degli stranieri, stranieri anche oltro oceano. Stanno da noi tornando anche stranieri che non si vedrà da tanto tempo, Cina. Noi anche ieri abbiamo chiuso il Bytasca con un grande interesse per la distanzionalezza dal mercato orientale. Sicuramente gli stranieri sono dati bene, sono in crescita, come in tutta la Toscana sono in crescita. È ovvio, è altrettanto vero che gli italiani sono diminuiti, il semplice fatto è che hanno ripotuto viaggiare, hanno scelto altri metri, anche straniere. E poi ricordiamoci che l'agosto comunque è stato anche un indice di decrescita dal punto di vista dell'indotto. Quando abbiamo, la gente c'ha da fare i conti fino a fine mese, se si paga 2,4 euro il litro di gasolio ad agosto e si specula sul viaggio, io dico anche che molti hanno fatto bene anche a stare a casa. Cosa cerca il turista ad Arezzo? Il turista ad Arezzo cerca una città toscana che sia una città con l'anima e con lo spirito, perché quello che piace di questa città è che il nostro centro storico, è un centro storico, la parte chiaramente turistica, che possiamo definire per la turistica città, cioè la parte chiaramente più storica, trova bello il vissuto che c'è nelle nostre strade, nei nostri vicoli, nei nostri artigiani, nelle nostre botteghe. Quindi torna a dire Arezzo è meravigliosa e piace a tutto tondo. Poi abbiamo un'imponente, io non faccio l'altro di dire, un'imponente offerta culturale museale, perché al di là dei musei, dove comunque si accede con biglietto, abbiamo delle opere d'arte meravigliose, liberamente fruibili, dallo spettacolare Cimagù e alla Maddalena, cioè il Duomo che è un museo, è un museo nel museo, è liberamente fruibile. Abbiamo la Pieve, questa è una città che racchiude una proposta culturale, museale, una proposta per un turismo cognitivo, cioè che vuol conoscere, vuol capire, è veramente importante. Questi sono i punti di forza, ci sono dei punti di debolezza su cui bisogna lavorare? Sicuramente sì, sicuramente sì, comunque siccome ci stiamo lavorando, siccome siamo una fondazione partecipata, in cui l'amministrazione ne sta discutendo, quindi posso dire chiaramente quella che è la mia opinione, anche se qualificata, sicuramente dobbiamo capire che il turismo non è solo promozione del territorio, è altrettanto importante, lo fa l'accoglienza dello stesso, l'attrattività dello stesso, quindi bisogna un po' rimettere per me un pochino i puntini, le sfere di competenza di quello che fa il pubblico, di quello che fa il privato. È ovvio che il pubblico deve garantire gli attrattori, fare gli investimenti importanti alla propria promozione, poi l'accoglienza ai strutture, che deve migliorare, l'accoglienza ai front office, che deve migliorare, l'accoglienza nei servizi, che ancora sono molto disaggregati, oggi il turista invece ragiona a proposte di vacanze attive, avendo come riferimento o l'albergo o il tour operator, devono oggettivamente ancora essere più snelle, diciamo più visibili, ma è un lavoro che stiamo facendo e che stiamo facendo con grande impegno e che continueremo a fare e che soprattutto nel 2024 vedrà una proposta importante che la città di Arezzo farà, a mio avviso, per la sua valorizzazione territoriale. Nella valorizzazione, torno a dire, però ci sono anche i servizi e i servizi incidono sulla scelta del turista. Accessibilità e sostenibilità sono le parole chiave? Nel turismo sicuramente la parola sostenibile è importante, però diciamo così, nel turismo la parola accoglienza vale più di sostenibilità. Poi che siamo sostenibili, che le nuove strutture devono essere sostenibili, che ci mancano i campeggi, che speriamo che ne nasca qualcuno in più, sicuramente speriamo che tutto questo avvenga in modo sostenibile, ma è un percorso, a mio avviso, che deve ancora iniziare. Cioè per me i fuochi d'artificio sul turismo devono ancora arrivare. Come ha accolto la notizia, i dati che sono risultati dal rapporto redatto dalla Fondazione Simbola e Union Camere, che pone Arezzo sul podio, diciamo, del settore cultura che genera ricchezza nella nostra città? Io sono lavorandoci, posso dire che quando hai due fondazioni che investono così corposamente in questo servizio, in questo settore, è ovvio che siamo contenti di questa uscita, di questa uscita, di questa classifica, che per di più ragiona a livello provinciale, quindi è tutto uno sguardo alla provincia, perché negli indici mettono chiaramente non solo le strutture, questa è la provincia che penso abbia più musei, penso, netto di Firenze, io non faccio classifiche, però penso che questa è una... Io ogni volta vado in un paese, in un borgo, trovo che c'è un museo, a Bibbiena c'è il più antico elaboratore, detto PC, che possiamo avere, abbiamo il museo agli idoli, abbiamo il castello di Poppi, che è sostanzialmente un percorso esplosivo, un museo meraviglioso, Cortona ha delle proposte incredibili, quindi per quanto riguarda gli attrattori culturali, questa è una provincia che non mi sorprende sia nei primi posti di questa classifica. Come vi state preparando all'inverno? Allora, ora sicuramente... Che solitamente è un periodo ancora più felice, no? Per quanto riguarda il turismo aretino, almeno negli ultimi anni. Diciamo, prima autunno, ultimo inverno, vabbè, certo c'è la città del Natale, che per quanto riguarda la città di Arezzo e anche il comparto Limitrofo, le principali città limitro, è molto importante, perché abbiamo per ora sempre ottenuto ottimi risultati sul piano del ritorno turistico. Come andrà? Non lo so, nel senso che io dai miei indicatori, pensando che vada bene, dobbiamo sempre essere... il turismo legato agli eventi porta un po' di tirannia sull'evento, nel senso che dobbiamo sempre essere in grado di cambiarlo, migliorarlo, investirci qualcosina in più ogni anno, perché non è che intorno a noi non stanno facendo nulla, solo in Toscana stanno nascendo come funghi città del Natale, in quella, i nostri fornitori dobbiamo fissarli prima, perché lavorano... io un po' me ne accorgo da quanto mi aumenta il lavoro, quindi c'è anche concorrenza, e quindi dobbiamo mantenere il primato. E non è facile, perché poi il giudizio non lo faccio io, né io, né la politica retina, né il mio presidente, poi il giudizio lo fa la gente che verrà ad Arezzo e che dirà quello che deve dire. Noi stiamo lavorando per garantire un bellissimo periodo delle feste, poi non solo, stiamo lavorando anche per non fermarci, per essere da subito operativi immediatamente su tante altre proposte, perché poi l'inverno sarà un inverno che comunque avremo delle proposte da promuovere. Il nostro è un inverno molto bello in questa provincia. Lei come direttore della Fondazione Arezzo in Tour, qual è principalmente l'obiettivo che le piacerebbe raggiungere? Allora, io vorrei... devo dire che l'anno scorso già un po' l'ho raggiunto, passare più tempo con la mia famiglia a Natale, sicuramente è un obiettivo che mi pongo personale, perché comunque il lavoro poi deve avere il giusto spazio nella tua vita e sicuramente questo è il primo punto che mi riprometto di organizzarmi meglio. Il secondo invece, aziendalmente parlando, cercheremo di portare gli indicatori sia economici che di presenze nel punto dove pensavamo che quest'anno doveva essere e lo stiamo facendo. Poi gli obiettivi sulla programmazione del 2024 li abbiamo già raggiunti perché siamo già fuori con... ieri su Alba Itasca ne abbiamo presentato tutta l'offerta, vedo insomma, delle tour alle quattro vallate, noi presentiamo prodotti turistici sulle quattro vallate, quindi abbiamo un pochino seguito lo spirito della nostra consapevole amministrazione che vuol vedere... che vive il turismo tra capoluogo e provincia in modo sinallagmatico, proprio osmotico, perché poi gli alberghi, le strutture devono vivere di opportunità di permanenza maggiore nel territorio. Grazie al direttore Rodolfo Ademollo per essere stato con noi oggi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochissimo.